Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi siamo qui per un piccolo approfondimento, piccolo vedremo quanto poi, ma fatto sta che stiamo parlando di un film di cui ho già parlato su questo canale. Stiamo parlando di un film che vi ho portato come film che avevo inizialmente ignorato, perché pensavo forse un torture porn, ma poi mi sono trovato quello che è davanti un capolavoro dell'horror per quanto mi riguarda. Stiamo parlando di Martyrs, un film di Pascal Laugier, la pronuncia dovrebbe essere questa, è francese, ma potrei sbagliarmi, del 2008. Un film che, come ho già detto, ho consigliato proprio sulla Geros Film Challenge, ma oggi sono qui per fare qualcosa di diverso, per fare un video totalmente aperto a spoiler, quindi se non avete visto questo film, abbandonate questo video, al massimo andatevi a recuperare la puntata di Geros Film a seriale in cui vi consiglio questo film, e poi tornate dopo la visione, perché questo è un horror che va visto senza spoiler e poi dopo ne possiamo parlare assieme. E io sono qui proprio perché sento il bisogno di farlo, vi avevo chiesto se eravate interessati e non ce l'ho fatta nemmeno aspettare abbastanza risposte, ho voluto registrare questo video. E ovviamente, prima di partire con questa analisi approfondita e totalmente zeppa di spoiler, andiamo con la nostra sigla. Innanzitutto, la trama con tutti gli spoiler del caso, quindi vi sto per sputtanare tutta la trama del film, partiamo da questo. Martyrs comincia con la visione di una ragazza che scappa da un palazzo. Questo scopriremo dopo che è stata torturata lì per molto tempo, non sappiamo bene quanto, fatto sta che questa ragazzina, una bambina praticamente, si è riuscita in qualche modo a liberare, non ci è dato sapere come, ma lei scappa. Stacco e siamo un po' più avanti nel futuro. Sembra quasi di essere entrati in un docufilm che ci fa vedere quello che è questo ospedale psichiatrico, verosimilmente, quello che è uno speciale proprio su questa ragazzina. Una ragazzina che sembra aver subito ogni tipo di abuso e crudeltà fisica e violenta possibile, ma è riuscita a sopravvivere. È una ragazzina chiusa in sé stesso, è da quello che vediamo in questi primi minuti, è una ragazzina che però è riuscita a trovare in un'altra bambina di quel posto un ponte di contatto, un essere umano, un volto amico che l'aiuti gradualmente a superare questi traumi. Dopodiché il film cambia un po' ancora una volta e ci comincia a far vedere però che questa bambina sembra essere inseguita, aggredita, torturata da una sorta di fantasma. Sembra quindi di essere entrati in quella che è una ghost story che ricorda anche un po' certe dinamiche degli horror asiatici, con questo fantasma che bracca la bimba e la ferisce, la taglia, la graffia. Noi vediamo tutto questo e poi sacco si risalta, avanti nel tempo. La bambina è diventata un'adulta, ma noi la scopriremo dopo alcuni minuti, perché inizialmente questa nuova parte, una nuova faccia completamente diversa di questo film, ci mostrerà una famiglia intenta in una colazione. Tutto sembra andare per il verso giusto, suonano la porta, qualcuno va ad aprire e una doppiettata in pieno petto. Tutto diventa nuovamente folle, sembra di essere entrati in un revenge movie. La nostra ragazzina, lo scopriremo da lì a poco, cresciuta, ancora tormentata dal suo fantasma, va lì per uccidere questa famiglia, che a quanto ci viene lasciato intendere è proprio, almeno nella figura del padre e della madre, la famiglia che stava torturando questa ragazza. Vediamo tutto questo e vediamo la ricomparsa del demone, del fantasma che non ha ancora abbandonato la ragazza e continua a ferirla. Forse non soddisfatto della vendetta, non ci viene lasciato intendere. Tutto continua così e arriva anche la seconda figura, quella ragazzina che fungeva da ponte di contatto, da aggancio con la realtà per questa povera ragazza vessata dalla vita e non solo, dalle persone dovremmo dire. Lei arriva e ancora una volta porta un po' di pace in questo momento e comincia ad aiutare la sua amica nel cercare di nascondere i corpi di quella famiglia che ha trucidato. Sicuramente comincia a riflettere su quello che ha fatto maggiormente, comincia ad avere paura che possa essere stato un errore, comincia ad avere anche sentimenti positivi nei confronti delle vittime di questa brutalità, di questa famiglia che stava vivendo una giornata felice fino a quel momento. Trova al contempo la madre che è ancora viva e cerca di salvarla. Tutto questo viene interrotto, viene interrotto dalla furia della ragazza torturata, dovrei cominciare a dare dei nomi però a questi personaggi no? E quindi cominciamo a darli, se non impazzite. La bimba si chiama Lucy, quella che era stata torturata e la sua amichetta e il suo punto di contatto si chiama Anna. E quindi la nostra Anna, che viene mostrata praticamente in tutto il film come un simbolo di bontà assoluta potremmo dire, cerca di salvare la vita a quella che forse era la donna che stava torturando fin da bambina, la sua amica. Anna la prende e la prova a portare fuori. Lucy sta in camera a recuperare dalle ferite inferte dal suo fantasma, ma si sveglia, scende giù e comincia una baruffa, arriva anche il fantasma, insomma scene molto ben girate, ancora una volta come tutto questo film, che concludono con la morte della torturatrice ma anche con la morte di Lucy. A quel punto però succede qualcosa, un nuovo cambio di scena. Succede che Anna scopre qualcosa, proprio nel momento in cui stava dubitando della sua amica scopre che c'è una stanza segreta in quel posto. E' dei cani in questa circondario. Scende giù, trova una ragazza torturata, con una calotta in testa, insomma comincia ad aiutarla, fa quello che sa fare meglio, essere una santa praticamente. La prende, la porta su, la libera di quella che è quella maschera metallica che ormai le ha distrutto praticamente anche la pelle. E proprio mentre siamo lì, mentre c'è una sorta di scazzottata fra questa ragazza che era torturata, che a quanto pare è folle in una qualche misura, e la nostra Anna, entra qualcuno e uccide la ragazza torturata. Anna viene messa KO. Di lì a poco troveremo Anna legata su una sedia e davanti a lei qualcuno, che sembra un po' un elemento importante in questa organizzazione. Che cosa fa questa organizzazione? Porta al martirio le persone, preferenzialmente giovani donne, perché a quanto pare sono più soggette a quello stato. A quanto pare questa società cerca le risposte, vuole sapere cosa c'è dopo la vita. Obiettivo che finora non è mai stato raggiunto. In alcuni casi il martirio è stato raggiunto, ma non c'è stato modo di comunicare con questa persona. E l'ha martirizzata da lì a poco è morta. E quindi si è portata ai suoi segreti nella tomba. Comincia il martirio di Anna. Cambia, ancora una volta, la faccia di questo film. Che diventa quello che potremmo definire in modo estremamente riduttivo un torture porn. Perché la violenza diventa centrale. Ma, ancora una volta, la regia, la fotografia, le musiche di questo film ci accompagnano in un viaggio diverso. Perché qui si vuole sottolineare il martirio e la santità di Anna. Anna, inizialmente, lotta. Un corpo fragile contro persone decisamente più forti di lei. Contro la possibilità di una salvezza che è impossibile da raggiungere. Poi si arrende. E viene vessata. Ancora ed ancora. Vediamo tantissime violenze che vengono inferte a questa donna. Ma lo vediamo con un quadro registrico, una fotografia e soprattutto un uso della colonna sonora che va in antitesi, ragazzi. Perché più le violenze crescono, più Anna si abbandona alle violenze senza lottare più, più subentra quasi una sorta di musica dolce, una sorta di poesia. Un distacco che riesce a farci percepire quello che sta succedendo. Anna si sta avvicinando alla via del martirio. E lo sta facendo con lo spirito di una santa che si arrende ai propri martiri, accettando quello che succederà. Scollegandosi da quella che è la violenza per collegarsi a qualcos'altro. Perché il fulcro centrale è proprio lì. Certe donne raggiungono il martirio. Certe altre aprono una porta oscura che fa entrare delle paure dei mostri che diventano concreti. Lo abbiamo visto con Lucy. Lo abbiamo visto con la nostra ragazza con la calotta. E non lo vedremo per Anna. Lei arriverà al martirio. In una sequenza incredibile in cui verrà scuoiata, lei vedrà una luce. Si avvicinerà a quella luce, capirà cosa c'è oltre e si abbandonerà all'estasi della meraviglia per aver visto qualcosa che nessuno dovrebbe vedere. L'organizzazione chiama il suo capo, Mademoiselle, e lei riesce addirittura a parlare. Anna le rivela l'unica verità, una verità che verrà descritta da Mademoiselle stessa come precisa, che non lascia adito ad interpretazioni. Il film come finisce? Finisce con il gruppo di questa società segreta, tutta costituita da anziani, o la maggioranza, comunque persone avanti con l'età, e tutta chiaramente ricca, potente, che ha praticamente riversato buona parte dei propri fondi, possiamo intuire, verso questa causa, nello scoprire cosa c'è oltre. Forse proprio perché l'oltre per loro è sempre più vicino. E quindi riuscire a capire dove andranno dopo quella vita sarà importante. Mademoiselle si chiude in bagno e si prepara, mentre nella stanza accanto si riuniscono i grandi di questa società per avere la rivelazione, per condividere quello che ormai Mademoiselle sa. E lì vediamo uno scambio. Intanto Mademoiselle si comincia a struccare, e questo ci fa vedere che dalla donna forte, anche se avanti con l'età che sembrava, è una donna provata chiaramente da qualche malattia, provata dalla vita. Sembra distaccata Mademoiselle, e negli ultimi scambi ci lascia capire qualcosa. Perché mentre parla con quello che sembra essere il suo assistente più fidato dall'altra parte della porta, parlando proprio di quello che c'è oltre la morte, lei dice, rimanete col dubbio. E poi si suicida. Così finisce Martyrs. Non ci dà spiegazioni. Noi non sapremo cosa c'è dopo la morte. Sapremo solo che la rivelazione, che era chiara ed era impossibile interpretare male, ha portato Mademoiselle all'unica scelta possibile per lei, a quanto pare. Suicidarsi e portarsi quel segreto nella tomba, ammonendo gli altri che bisogna restare nell'ombra, bisogna restare nell'ignoranza. Perché questo film è un capolavoro? Questo film è un capolavoro innanzitutto perché riesce a prendere tutti gli elementi di tantissimi horror, fonderli assieme e mantenerli coerenti. Ok? Abbiamo almeno tre cambi di direzione in questo film. Tre cambi di stile registico anche, in parte almeno. E tre cambi di poetica horror. Perché abbiamo un po' gli elementi del ghost story, un po' gli elementi del revenge movie, e un po' gli elementi del torture porn. Ma tutti questi, tutte queste sfaccettature, tutti questi aspetti dell'horror arrivano insieme per consegnarci un'opera che riesce, malgrado costantemente ti tolga il tappeto da sotto i piedi e ti faccia finire con il culo a terra, a non perdere mai la bussola di dove vuole andare. A mandare un messaggio chiaro, ad avere una direzione registica, artistica, musicale, attoriale, tutto va nella giusta direzione. Tutto è perfettamente equilibrato. Una roba difficilissima da fare. Ma non è solo questo. Perché Marty porta anche gli elementi di riflessione che amo nei film horror, e che mi fanno dire l'horror non è solo intrattenimento, quando non vuole essere solo intrattenimento almeno. Ci sono gli elementi di riflessione, c'è il tema che ci portiamo avanti da quando siamo su questo cazzo di pianeta. Cosa c'è dopo la vita? Alcuni dicono niente, alcuni dicono paradiso, inferno. Ognuno ha dato la sua personale risposta, i filosofi ci hanno passato la vita, le religioni lo continuano a fare. Qui ci viene data la risposta, che è chiara, è netta, perché se qualcosa alla fine di quel tunnel di luce è stata vista, qualcosa c'è. Ma è una verità che non è per le nostre orecchie. L'uomo deve restare nel dubbio, nell'ignoranza. Questo apre a tante riflessioni. Da una parte c'è una critica sociale netta e evidente, perché oggigiorno in una società che, costantemente grazie a un aumento di status economico, di status sanitario, ha portato i limiti della nostra vita sempre più oltre, sempre più in lontananza, è rafforzata da quel fantasma, dalla morte, che malgrado noi continuiamo a cercare di ignorarla, di posticiparla, di allontanarla, di lottare contro essa, è costantemente presente, perché è parte della vita e noi continuiamo a rifiutarla. Soprattutto, meglio si sta a livello economico, ragazzi. Più sicurezza, più sanità, più risorse hai, più lotti per allungare la tua vita, per strappare qualche altro anno. E qui, questa società, non è caso di persone tutte in buone fasce economiche, tutte avanti con l'età, ha praticamente sperperato l'intera vita per cercare di capire cosa c'è dopo. E qui arriva il primo messaggio. La vita è slegata da cosa c'è dopo. Vivete la vostra vita, non sprecatela per cercare quella risposta. Ed è un messaggio positivo e anche di critica verso la nostra società e verso quella che è anche la società segreta di questo Martyrs. E un'altra piccola critica sociale può essere mossa anche dal fatto che, guarda caso, noi abbiamo lo schieramento anziani contro lo schieramento giovani donne. Ok, le donne le possiamo interpretare anche in chiave sociale, visto che sicuramente sono le più vessate tra uomini e donne. Ma sicuramente la tematica che emerge è anche quella della lotta delle società, delle sfere più alte, più anziane della nostra società, contro i giovani, che cannibalizzano il futuro dei giovani per continuare a restare su questa vita, per continuare a mangiare risorse, per continuare la loro vita. Forse c'è anche questo, forse c'è una forte critica sociale per le società che stiamo mettendo su, per delle società che continuano a mangiare il futuro a noi giovani. E in questi giorni, tra l'altro, mi sembra che si noti una maggiore incertezza. E di questo anche devono parlare i film, delle incertezze della nostra società. L'altro elemento arriva sempre analizzando la società segreta, perché quel restate col dubbio è forse già una presa di posizione importante, è forse già un dire finitela col martirio. Perché forse proprio quel martirio sta precludendo per queste persone il loro oltre, quello che sarà dopo. Perché forse hanno sbagliato dall'inizio e ormai le loro anime sono andate, forse la loro vita non ha più senso, l'unica cosa che resta da fare è suicidarsi. Noi non lo sappiamo, il film non ce lo dice chiaramente, ma lascia nella mano del fruitore la possibilità di analizzare queste cose, di scegliere il proprio finale, di scegliere il proprio significato recondito, o di scegliere di fare quello che fa il film, di restare col dubbio e accettare il dubbio come parte della vita. E questo è già secondo me qualcosa di meraviglioso. Sapete quanto, se mi seguite da un po', io ami i finali aperti molto spesso. E quei film che non vogliono darti spiegazioni di tutto. Un po' perché quando provi a spiegare cose del genere quasi sempre, come diceva anche King, resti deluso. perché se apri la porta e vedi il mostro, sarà sempre più derudente. Se scopri cosa c'è dopo, se scopri cosa stava nascondendo il film o il libro, resterai deluso. King, l'ho citato, anche se King poi vuole mostrare il mostro, pur sapendo che resterete delusi probabilmente. E non a caso molti finali di King lasciano con la mano in bocca e lasciano un po' delusi. Perché il nostro cervello funziona così. Funziona meglio grazie a quelle che sono le interpretazioni che lui stesso riesce a creare, che sono vaghe, sono fumose, ma ci terrorizzano proprio per quello. E quindi è ovvio che io apprezzi un film che finisce così. L'ultima cosa su cui questo film mi ha fatto riflettere è proprio che anche non volendo vedere una possibilità legata alle religiosi, un'interpretazione, anche volendo interpretare che il film non ti sta dicendo che chiaramente c'è qualcosa, ma magari ti sta dicendo che chiaramente il credere che ci sia qualcosa può creare qualcosa. Siamo qui quasi nella metafisica, ragazzi. Ma magari c'è anche questo, magari c'è anche la potenza dell'immaginazione stessa, del piedersi per tutta la vita. Cosa ci sarà dopo? Del costruirsi un'idea, del costruirsi un qualcosa e andare in quella direzione che magari ci può rendere migliori, magari peggiori, questo dipenderà da ognuno. Io trovo che ci sia anche questo. È nulla. Ho praticamente esaurito tutto quello che vi volevo dire. Questo è un film che vale la pena ad essere visto perché è un filmone innanzitutto. Ok? Punto. È un film che artisticamente vale la pena di essere visto per la bellezza del gesto di sedersi e vedersi questo film. Malgrado vi ritroverete come ho già detto o ho già detto nell'altro video nella Gerus Film Challenge che vi ritroverete magari raggomitolati per certi momenti di estrema violenza. Ok? È un film che vi proverà sicuramente. Ma è un film che varrà la pena aver visto. E io trovo che molte delle recensioni che ho visto in giro lo abbiano trattato molto peggio di quello che questo film merita perché per me questo film è un capolavoro dell'horror. Punto. L'altra cosa è proprio per questo perché è un film di quelli che vi fa riflettere che vi lascia degli elementi che possono accrescere quella che è la nostra capacità mentale al di là di film di semplice trattenimento che sicuramente sono validi ma non aggiungono nulla dal punto di vista del piatto di ciò che siamo delle riflessioni che possiamo portare avanti e di un accrescimento come persone come cultura anche potremmo dire che dal mio punto di vista è importante curare nella vita. La chiudo qui perché si potrebbe stare per ore a narrare quanto questo film è meraviglioso ma credo di aver risaurito tutti gli elementi di analisi che volevo portare sul piatto della bilancia. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi avete colto o osservato qualche significato differente perché ovviamente sono sempre felice di accrescere quella che è la mia sfera di analisi grazie anche a quelle che sono le vostre opinioni. Detto questo vi ringrazio per il vostro tempo e vi invito come sempre oltre che a commentare come ho già detto condivisioni like insomma fatemi sapere e consigliatemi altri film perché è sempre un piacere vedere qualcosa e magari scoprire che quel film che avevi per tutta la vita schifato o evitato semplicemente perché questo non l'avevo schifato alla fine era un piccolo cazzo di capolavoro. Grazie per il vostro tempo ragazzi e alla prossima grazie per la visione